Ehi! Oh! Corri e salta dietro un pallone, ti chierete e non andrà! Bentornati fratelli di Tuberanza, siamo di nuovo su Inazuma Eleven Strikers! Ve lo dico subito, per il prossimo video su Inazuma altri 2000 pollicioni all'insù, mi raccomando! Tanto siete pazzescamente veloci ed efficienti e dire mi raccomando è inutile! Comunque, vorrei passare a dire alcune cose sulla mia squadra. In tantissimi mi state chiedendo di utilizzare questo benedettissimo Victor. Allora raga, c'è un motivo per cui io non l'ho ancora utilizzato. Non credo che Victor con un tiro di livello 3 possa far gol a un portiere con una presa di tipo A oppure S addirittura. Perciò per favore andate nei commenti e scrivetemi quali secondo voi sono i tiri più forti di tutto Inazuma. Dopodiché cercherò di sbloccare i ragazzi perché io devo fare una squadra abbastanza forte da poter sfondare anche la Ogre. Capite qual è il senso? Perciò ho bisogno dei vostri consigli veri e propri. Mi raccomando, nei commenti consigli. Grandi. Allora il ballottaggio della squadra contro cui giocheremo è stato vinto dalla Inazuma Japan. Ok? Perfetto, iniziamo sta partita. Vai, inizia, yes! Ok, cominciamo. Cominciamo. Ho spostato un pochettino l'inquadratura, ragazzi, perché ho bisogno di avere una visuale semi-completa del campo, perché altrimenti non vedo quando mi arrivano i nemici o quando devo attaccare. Capito? Perfetto. Questa è la mia squadra? Yes! Bu, ragazzi, secondo me la mia squadra è perfetta così. Bisognerebbe solo dare una potenziata ai giocatori. Eh? Dopodiché siamo a cavallo. Non so, magari mi sbaglio. Stadio Football Frontier? Va bene, yes. Iniziamola. Ed ecco il calcio d'inizio, signori miei. Dai, forza. Li sfondo, no, quale partita assisteremo. Facciamo un po' di passaggi giusto per caricarci i tiri. Facciamo un altro po' di passaggi. Nel pretempo ho emesso un suono. Inizio la cavalcata, raga. Ok. Porca miseria. Sembra che nessuno voglia darsi per vinto. Questo l'ho messo a sedere. Questo l'ho messo a sedere. E questo gli sparo in bocca adesso. Ha, ha, ha. Cia tripla! Parati questa, Mark. Ti buco le mani adesso. Avanti, popolo. Lo scudo di energia mi voleva parare. Ma, ma... Diglielo, diglielo. Vai a cagare, diglielo. Eh, vabbè, povero Mark. Cinque minuti dall'inizio e siamo già uno a zero, signori. Oltre ai consigli scrivete anche, secondo voi, quanto finirà questa partita. Anche se dubito che ci indovinerete. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Ci provavi. Dagli un calcio in bocca, non una lastra di ghiaccio. Un calcio in bocca, dagli. La difesa è impenetrabile. Facciamo. Ah, ma va a cagare. Ho caricato troppo. Porca miseria. Senti, dammi subito sta palla perché a volte ti spacco le... Buono. No. Ridalla al lancer. Bravo. Già hanno capito. Mettiti a sedere. E stai zitto. Ok, ci siamo. Vedo che in mezzo non c'è nessuno. L'ho messo a sedere, signori. Un'altra botta in bocca. Dedicato a voi. Triangolo micidiale. Lascia sta, lascia sta. Levati direttamente dalla porta, non ti stancare. Cioè, qualcuna ne para? Oppure è sempre così, no? Perché, ragazzi, qua rischiamo di fare il cappotto. Ok, qua arriviamo a 10 a 0. Ok. Io ho rotto le gambe. Oh, grazie della palla, fra... Sto per caricare un altro tiro. No, 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 no. Questo mi vuole bloccare. Oh, fallissimo! Aspetta che... Eh no, vorrei provare a tirare, ma è meglio di no. Diamo la palla a lui. Oh, no, me l'ha presa. Volevo fare il folgore stellare. Ma che fa questo? Vuole tirare? Le squadre sembrano in ottima forma. Eh no. Jude, non ho fatto in tempo a dartela. Dai, prendila adesso. Eh, vabbè, Jude, ma allora se... 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 No. Cioè, Jude mi si va a nascondere dietro gli avversari e come gliela passo lo anticipano. È un idiota patentato proprio. Mo? Hai perso il tiro, immagino. No, non l'ha perso, strano. Ok, seduto. Sì, spariamogli in bocca anche questo. Povero Mark. Alla fine di questa partita Mark deve andare dal dentista a rimettersi tutti i denti che gli ho spaccato. Stellare! E BAM! Non da kamehameha. Lo fermerò. Contaci proprio. BOOM! Baby! E un'altra pera! Per Mark. Grande Mark. Numero uno. Primo tempo quasi finito e noi abbiamo già la medaglia di platino a casa. PASSA! Dai! Ora! Uh! Uh! Ci provano! Ci provano loro, eh! Ruggito di fuoco! Ruggito di fuoco! E lui pensa di farmi gol con il ruggito di fuoco. Va bene. Facciamogli vedere chi siamo. Attenzione! BAM! Non passi, non passi. Rinuncia. No. Ha fatto due tiri in due minuti. Xavier, ragazzi, è un giocatore pazzesco. Ah, che poi tra l'altro mi avete chiesto anche di sbloccare il Big Bang. La mossa che si sblocca tra Xavier, Sean Frost e Jude. Ci stavo pensando. E la sbloccherò. Perché voglio rimetterlo in campo. Xavier. Buono. Ti smonto. Ciao! Micidiale! E vai a casa. Adesso lo sfinisco, raga. Così poi entrano anche i tiri da uno. Ma questa non puoi par... Eh, beh. Se non paravi questa, fra... Veramente. Datti all'ippica. Bella la canzogina. Tutto sto macello per un piede. Che tra l'altro buzzava pure. Eh, no! Attacco volante. Io ho appena fatto un rutto micidiale, invece. Ben. Mi dispiace, Fra. Hai preso un gol ogni dieci minuti. Perché un tempo dura trenta minuti. Potrei fare di meglio, ragazzi. Potrei fare di meglio. Perché devo guadagnare un botto di crediti. Sì, sì. Devo potenziare tutti. Li potenzio, sì, sì. Sì, miracolosa rimonta da chi? Tornate in partita. Dove sei? Axel? È una partita a senso unico ormai. Eh? Volevi. 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 L'avevi batt... L'avevi battolare. Folgore stellore. Ma dopo, oraccio. Lui ci ha creduto. Eh, vabbè. Sì, 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 sì. Madonna! Eh, mi dispiace. Sì, mi dispiace. Anche Hobbs la festeggia. Ma in realtà lui non è stato veramente inutile in questa partita. Ma va bene, uguale. Facciamole sul tag. Ops. Guarda un po' chi c'è. Grande illusione! Che poi, raga, perdonatemi una domanda, ma Giulio Acuto, Giulio Acuto, una cosa del genere, ha le stesse mosse di Jude? Cioè, se lo prendo, mi vale? Pam! Del lupo! Bellissima sta mossa. Ah, me la blocca sto porco. Vabbè, ti trapasso uguale, quindi, non è che... Bravo, palla con tre, la parata. Così mo ti rompo ancora di più l'energia. Grande, bravo. Guardate come corre il nanetto. No, 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 no. No, perché? No, mi sei lasciato B, non si... Cioè, vabbè, a parte che questo, raga, è il pad della Wii U, della Wii normale, della mia ragazza, fallatissimo, comprato sicuro dai cinesi, si vede. Ma quello che cazzo fa? Anche lui mi ha fatto... Eh, volevi! Questa mossa che entra, raga, eh? Forse no, però. Proviamoci, forza. Daie, daie lo hacker. Alta, attenzione! Bah, madonna, neanche i tiri in bocca mi entrano, raga, incredibile. Ma... Cioè, scusa, me l'ero... me l'ero bevuto coi giochetti. Beh, mi dispiace, potevi tirare. Ragazzi, in questo secondo tempo non sto facendo niente io. Tormenta di fuoco. Guarda, me la voglio rischiare con due. Fagli vedere chi siamo, lo hacker. Via! Elettrica! Levati proprio. Uh, sì, vai con l'hanzer. Ti vado a fare il quinto gol, compà. Preparati perché in arrivo sul binario tre. E' una partita... No! No, perché? Ma va a cacare, ma... Mi si allontanano i giocatori, raga. Cioè, non... Andiamo! Una cosa incredibile. Tu crederai mi fa di potermi fermare. E' una partita... Ha perso pure il tiro, sto demente. Ma come si fa, dai, ragazzi, su. Ma questo si fa anticipare. Ma do che nervi, ma do che nervi. Che dite? Lo fermiamo? Eh? Meno male, Sean. Pessimo, ragazzi. Pessimo proprio. Ho fatto un'azione pessima. Oh, avete rotto le palle, però, eh. Mo ve lo dico. No, no, me li fa i tiri di livello uno. Sì, 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 sì. L'ho giocato la tira. E non passa niente, no. Ti fai i tiri da uno. Poi ti fanno fare il fenomeno. Avanti. Ma stiamo scherzando? Ok. Vai a casa. E via a mamma che stasera arriva con le mutande strappate. Ti è. Eh sì, signori miei. È in arrivo. Sul binario 3. Folgore stellare. Che porta a destinazione. Quinto gol. Non ho tirato. Vabbè, non importa. E sbam. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Stami bene, eh. Ciao. Sì, 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 sì. Ciao. 5 a 0, signori miei. 5 a 0. Mamma mia, che purga. Che purga. Batti? Siamo alle fasi conclusive della partita. Ok, questa la prendo io. No, ma... Sì, forza. Guarda un po'. Oh, oh, oh. Grande illusione. Dai, voglio farti il sesto gol. Sono davvero inarrestabili. Forza. Il portiere la fata. Oh, ci sta la scia tripla di qua. Levatevi. Andiamo, 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 andiamo. Facciamo sta scia tripla. Ma perché mi si lascia sto... Dove ho il comando di merda. Alla uscita, rimessa la... Eh. Eccoci al tempo di recupero. Che nervi. A me quando non mi funzionano i joystick, regà. Vado fuori di testa, vado. Sapete che piglio gol, mo', ragazzi? Non si sa le bestemmie che dico, eh. Non si sa. Non potete immaginare Che cosa succede se prendo gol adesso. Bam. Ok. Un paio di santi stanno bene, allora. E finisce qui, signori miei. 5 a 0. Mamma mia, che porra. Incredibile. Una purga pazzesca. 5 a 0. E potevo fare molti più gol, eh. Molti più gol. Soltanto che sto joystick cinese maledetto che fa schifo. Porca puzzona. Non lo sbatto per terra, faccio 50.000 pezzi. No, vabbè. Questo passa il commento. Wow. 3420 punti. Con un bonus per tre. Incredibile. Crediti a go-go, proprio. Mani, 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 mani. Fantastico. Usciamo. Eccoci qua. Olè. Platino. Mamma mia. Signori miei. Per oggi è tutto. E mi pare più che abbastanza. Non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video, sempre e solo qui su Tuberanza, tra 2000 pollicioni all'insù. Ciao. 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 Ciao.